Il piano industriale per i prossimi tre anni di Biperbanca delinea una nuova fase di sviluppo del gruppo con obiettivi ambiziosi, ma, come ha sottolineato la D. Piero Luigi Montani, che sappiamo essere alla nostra portata, facendo leva sui ragguardevoli risultati raggiunti in termini di miglioramento del posizionamento competitivo, redditività e qualità del credito. L'utile netto, atteso al 2025 pari a circa 800 milioni di euro, sarà raggiunto grazie al potenziamento delle cosiddette fabbriche prodotto nei business strategici del gruppo, rafforzando il modello di banca multispecialista, con l'obiettivo di accrescere ulteriormente la componente commissionale all'interno dei ricavi. Saranno cedute le attività non-core, tra cui la piattaforma di gestione degli NPL, i crediti deteriorati, che consentirà di fare ulteriori significativi progressi nell'attività di derisking, raggiungendo un rapporto tra crediti deteriorati e crediti totali erogati, lordo, stabilmente sotto il 4% per tutto il periodo di piano. Sul fronte dei costi, ha commentato l'amministratore delegato Montani, in sede di approvazione del piano, saranno implementate azioni che consentiranno di migliorare strutturalmente l'efficienza operativa e di far fronte ai significativi investimenti previsti in tecnologia, indispensabili per rispondere alle crescenti esigenze della clientela e all'accelerazione digitale che sta attraversando il sistema finanziario. La crescita della redditività complessiva sarà supportata dalle importanti sinergie derivanti dall'integrazione di Banca Carige, quantificato in oltre 150 milioni lordi a regime, a conferma dei solidi presupposti industriali alla base dell'operazione. L'aumento degli utili sarà accompagnato da un incremento della remunerazione agli azionisti, con un payout ratio al 50% nel 2025 e un monte dividendi pari a circa un miliardo di euro che verranno distribuiti nell'arco di piano, mantenendo al contempo una solida posizione patrimoniale. Il raggiungimento dei target sarà reso possibile anche dalle importanti leve di sviluppo previste per i dipendenti del gruppo, che l'amministratore delegato ha ringraziato per i risultati ottenuti, l'impegno e lo sforzo profuso quotidianamente in una fase di forte trasformazione e crescita della banca.